ah ma tu sei proprio mod manager mi avete dovuto fare così questo è solo la mod ragazzi hanno messo anche le nuove ma la mod si hanno messo le nuove ma la prima o la nuova ma la fungus fa cagare ho schifo la fungus ma pure quella subacquea è buggata la principale è sì una moddata io vorrei affrontare un piccolo discorso un piccolo topic che ho scoperto da pochissimo ovvero a ragazzi cioè a berro non piace la birra a berro a berro a berro a berro non piace la birra si fa un appello nel 2024 in cui siamo adesso basta più unire in una frase birra e berro basta alla birra di berro ma è bella la birra di berro niente più birra di berro ragazzi mi dispiace non so non so veramente che cosa dire in generale ecco ma tu non sei un generale esatto dietro la collina allora è giornata giusto ok hai disinstallato e reinstallata ho disinstallato e reinstallato mod manager però quando rientro dice town of us r io quindi adesso premo sulla installa town of us r no 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 tipo rimuovo la mod e la reinstallo giusto perfetto basta apporto tanto venite tutti i miei stellini bellissimi raccolto tutto che voglia lirà una stella ho il tempo io reputo sarebbe strano che la mia ragazza si chiama luna io fossi una stella no pensaci allora strano sarebbe strano se non fosse strano ragazzi ho il tempo di fare tutto quello che vuoi hai tempo di fare un po il cazzo che vuoi hai tempo di fare un po il cazzo che vuoi si vabbè non manco fa così raga allora mi andrò a fare un tè e poi avrò a casa tua regia sai cosa faccio io vado a prendere un tè londinese comunque dato ancora non mi hai scoppato questa cosa della birra io mi incazzo te lo dico ferro vuoi la birra sì grazie volentieri vedo che la situazione è già degenerata sono felice no a parte tutto mettiamo due impostori un vampiro e un vampiro eh siamo 12 persone ci sta quindi due impostori e un vampiro ci sta quando arriverà la polizia no 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 eh sì delirio totale saranno quattro assassini eh però si può ammazzare a vicenda ricorda eh ma non a vicenza e quindi come famo? è a padova allora facciamo ecco l'ecosino perché a padova e tu le luci le luci gli alberi Natale Natale e niente ragazzi la situa è bella siamo qui siamo qui io comunque sì adesso sto cercando anche un paio di mod se quelli che ho adesso non non resteranno attivi saranno deboli deboli come siete e niente sì no sapete cosa a me ispira un sacco fare la reaction seguita dal gaming quello oscuro che guarderemo in tre tipo cazzo sì saremo la gang dei quattro persone che guardano il gaming oscuro non vedo l'ora di farlo tipo stasera dopo questo andiamo a giocare a qualche gioco che nessuno conosce in venti ci sta oppure faremo una partita lol dove io prendo il cazzo come al solito anche questa è un'opzione vediamo dopo decideremo dopo decideremo l'importante è che voi siate qui e stiate con me e ci vorremmo bene l'importante è che mi vogliate bene entro stasera arriviamo a 200 sub così dai mancano dieci subine e ci possiamo arrivare un po' per il memino un po' per il haha funny così senza vera ragione partitina 1 cazzo la partitina 1 andrebbe rifatta vi darò ragione su questo così rivedo i maghi piccoli erano belli i maghi piccoli comunque quest'anno raga questo è l'anno in cui tutta la scena ci fa il culo voglio proprio farmi tutte le live i video tutto fortissimo lanciato perché quest'anno dobbiamo fare i soldi cioè non c'è niente da fare vogliamo gli soldinis partita a monopoli partita al monopolio dei monopoli cosa ci racconti? vi racconto che oggi è stata una giornata interessante alla fine perché come si dice ho fatto l'allenamento ho lavorato un botto ho fatto 2-3 video per reaction e ho messo a posto le ultime cose qua di twitch non tutte perché devo cambiare ad esempio il logino degli abbonati eccetera e tutte ste cose tutte ste cose è stata una bella giornata voi che avete fatto di bello vi siete allenati avete fatto la palestra della tetta poderosa come la mia guarda che se la vostra ragazza ha le tette più grosse di voi siete dei falliti ve lo dico ma il quacca e gli applausi non ci sono più c'è per 100 bit il cipi cipi ciapa ciapa e poi piano piano aggiungeremo altre cose piano piano aggiungeremo altre cose io ho fatto pole dance ho passato tutto il giorno in laboratorio non male volevo sapere che ne hai pensato di napoleon carino mi è piaciuto un po' bizzarro ma mi è piaciuto eventualmente per la cosa di mod ci sarà un form oddio non sono così professionale ragazzi probabilmente no sarà una roba un po' più cacciarona ve lo dico ve la metto così di prepotenza dai torniamo dagli altri che siamo tutti qui tipica reazione quando francesco comunque quando francesco virgolini sempre l'odio francesco allora ragazzi ma quindi ci siamo tutti o no no ma vabbè non lo sapete che francesco un pezzo di smith e no raggi oggi si impara al tedesco che manca amici miei io ristallando per la terza volta la mod guarda veramente sempre il ritardo ok nessun problema nessun problema nel chillon nel chillon jing nel chillon jing facciamo vedere come gli streamer non sono professionali scusami un attimo io ho delle vitamine qua davanti a me possiamo dire la prima parola che c'è scritta dentro le mie robe sito dai dopo muori no no dai tipo dai no no d i e d e i tedeschi vogliono morto sì no vabbè sarai neu nari schien smithel dai dai cartoffer non avrebbero detto nulla di brutto schlunk parli eh cercherò di per me da sette ore non riesco ho fatto installare a mio fratello la moda a mano perché andava il mod manager e l'ha installata però lui ha in questo momento schermo nero e da noi è player clone non so se quando magari starta la partita deve avere steam aperto ce l'ha steam aperto credo ce l'ha among us credo non mi piace no come è che io che sono boomer cazzo sono riuscito a fare vabbè mentre loro risolvono questa cosa noi restiamo qua e ci parliamo e ci diamo i bacini come si fa la sub con prime allora samu devi connettere appunto esclamativo prime se vuoi la guida però di base è connetti il tuo profilo prime di amazon con twitch e poi puoi fare la sub gratuitina molto molto sciallamente molto nel chillonji si milko comunque abbiamo litigato ci siamo accoltellati ma poi abbiamo fatto il sesso riporto grazie samale per il terzo mese meglio l'alert del content ok pezzo di merda mi dice che è connesso ma non appare nulla non hai abbonati senza gratis quella roba lì chiedo eh bertra voglio una foto dei maghi piccoli no mi dispiace niente maghi piccoli parati auguriamoci che il manuale di amogos che ti sei letto nel nuovo video sarà servito a qualcosa cazzo si spero che io perchè per ora la situazione è gravina è abbastanza gravina che palle ho dato il mio prime al trono del muore vabbè quando volete poi potete rifarla ciao nick come va bell'uomo come va niccolone niccolone radonone no dragobert si sei il drago barese io spero che voi mi decidiate di dare il prime se non volete sti cazzi l'importante è che ci siate a me fa piacere se ci siete mi fa delle compagnie ci diciamo le cose questo sarà un po' lo spazio boh dove vengo la sera a decomprimermi un po' facciamo il content ma nel chill ci divertiamo facciamo le cose ti faremo sempre compagnia oh grazie l'importante è quello l'importante è che ci si voglia bene che ci si diano i bacetti l'importante è il potere dell'amicizia esatto l'importante è il potere dell'amicizia sia anche il potere di tutti i soldi che mi date oh giusto a proposito di soldi adesso vi metto le pubblicità più aggressive del mondo pezzi di merda scusate perchè passo da dire cose tenere a questo di colpo veramente guarda io non so cosa dire ah ragazzi mi raccomando le cose divertenti che succedono stasera fate le clip fate le clip e fatele punto è importante e dategli un bel titolo così le riconosco per favore mi servono tante clip servono le clip onesto servono le clip tutto quello che avevo da dirvi bastardoni va bene per favore si ma non gridare no grido grido il mese prossimo lo do il premateo mi scaletta anche 105.1 di gip o due sedie grazie ardo mi piace entrare sono fiero di entrare a far parte della tua rotazione allora così così ti voglio allora mettiamo un po' di annunci voilà e va bene perfetto 280 sub bertha si asa le sopracciglia no no mi dispiace bertha hai colpito un punto dolente che punto dolente ho causato marchettino non dire queste cose che poi mi sento triste vi giuro mi sento triste comunque non sta funzionando among us a nessuno in qua in questo sito sono tutti mutati noi mutati loro mutati il mondo è mutato ma non importa non importa perché noi siamo qui con noi cazzo quanti giochi che voglio portare quanti giochi un po' forgorda tutti e quante reaction no raga saranno tante tante reaction leggeremo le chat leggeremo i troll leggeremo spunte blu guarderemo il primo appuntamento guarderemo il castello delle cerimonie io ve lo dico se stasera arriviamo 200 sub faremo anche le reaction al castello delle cerimonie io ve lo dico drago barese sono ovviamente un mago piccolo ovviamente scontata questa cosa l'hotel no no si gio gio è l'hotel di primo appuntamento che iniziamo cazzo si l'hotel di primo appuntamento domani si inizia con quello e anche mercoledì lo guardiamo insieme a tot no chiamami Gio non Gio Gio ok Gio 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 o forse domani non facciamo primo appuntamento lo facciamo con tot adesso poi più tardi decideremo tutto non vi preoccupate ma come il castello delle cerimonie raga fa troppo ridere ne ho visti un paio di episodi con Marghe negli scorsi giorni è fuori di testa ma te fai live il pomeriggio vedremo magari ne faremo un po' magari qualcuna la facciamo post pranzo è stupendo no è bellissimo ragazzi è un capolavoro di veramente dimensioni fuori di di cabesa de cabesa la cabesa quella no io adoro io adoro Bertano non ti ho mai amato così tanto gang perchè sta settimana lavoro sempre la sera tanto trovi tutte le live su amichetti uncut amichetti uncut ci sono le live broschie che bello mi mancava fare il live per ora vediamo quanto ci metterò a rompermi le palle non è vero basta che non fai minecraft eh no allora eh minecraft magari ci si ci farà era più bello esserci in che senso esserci cos'è che non dov'è che non sei vediamo se gli altri hanno finito intanto insieme a noi da aspettare amici miei cosa sta succedendo niente che sta succedendo siamo qui facciamo le zanzarine ah senti un attimo dato niente cavolo però lo fai bene minchia si sei fortissima dimmi vieni qua dammi un bacio ah perchè voi nel mentre state già su su socus amocus ma tu non ci sei madonna eh ma sto aspettando che ci mancava ecco che mancava ecco che mancava ma che mancava ma solo io mancavo si no ragazzi non c'è una persona ma non c'è una persona e ogni volta mi dicevate che non funzionava qualcuno possiamo insultare totta possiamo tutti insultare totta grazie ragazzi guarda tu devi stare zitto che troia tu devi stare zitto totta merda io ho una paura di totta ragazzi totta merda ragazzi per favore iscrivetevi la tier 3 vengono scritte sulla lavagnetta ragazzi ragazzi il sub tier 3 vengono scritti sul mio pene quindi c'è una sub tier 3 da fare io la scrivo sulla lavagnetta e mi inclinerò in modi incredibili per farvelo scrivere ma totta è incazzata ma non lo so ragazzi mi piace questa opzione mi piace questa opzione mi piace questa opzione Dado ti sto scrivendo in privato su telegram un attimo una foto del cazzo ti prego se mi mandi la foto del cazzo il giorno più bello della mia vita dopo ti mando anche la foto del cazzo ti prego giuro che te la mando ma ciurli oh ma ce l'hai una sigaretta eh stanno risolgendo sai dove posso reperire dello sballo si certo vieni qua c'è il mio ma non è vero c'è un'altra persona ma allora che cazzo mi avete distrutto ma vieni qua prendi qua inutilmente gangbang su totta perché hanno visto che mancava uno e sono usciti eravamo 11 fino a prima e adesso ecco eh certo sempre io il problema sempre io va bene me ne accoglio si è rimasto 12 per un'ora va bene chi manca li ce lo rispondeva vabbè e Charlie ha detto basta mi sono basta chat per favore possiamo puntare tutti il ferro a totta tutti i sub puntate il ferro a totta che tanto lo so che avete il ferro via che dovessi rispondere io per forza no 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 ho un smith questa cosa mi fa star male facciamo così risolveremo tutto con la prima partita ti butteremo effettivamente mi mancava il disguiser con l'eccellenza il che disguiser i morfling il mosquito un avvocato una cosa no resolution tante sbucione tutti insieme ragazzi perché è natale che è sbuccione sbuccione mie ma dai partiamo in dieci mentre aspettiamo desserts aspetta impostors partiamo siamo in dieci cazzo mamma mia raga among us among us among us sono un class assaeno è il destino ragazzi al destino che sono un impostor sono l'impostore sono impostore sono impostore impostore dormi tu dormi tu non le campate io non sono stata io giuro non sono stata io non sono stata io non sono stata io non so che potrebbe sembrare che la situazione contro di me ma non sono stata io io stavo facendo i cassi miei in possiamo possiamo andar veloci la telecamere dato ucciso bertra ma dove era il corpo davanti al centro mappa ragazzi non è vero a posto grande cosa sta succedendo c'è chi tu che hai votato devo votare dato io ho fatto una connetta era sulle telecamere l'ho visto non c'è anche le telecamere attive va bene va bene io schiferei io schiferei votate dato no basta sempre le telecamere io ci credo si ma ti dico un'altra grazie ma veramente bravissimi ragazzi sei un ciola ma ora di un'altra cosa ma potevi di prima un'altra cosa scusa bastava semplicemente che aspettavi a votare è troppo tante mazzi di merda ma povero Dado niente mutatevi vivi dove sono i morti ciao morti cioè Dado allora Bertra comunque sei pezzente no no non hai capito cioè tu guarda lo vedi il mio ruolo leggi leggi cos'è il mio ruolo no non ce lo vedo non lo vedo non sto seguendo lo vedi il mio ruolo no non ce l'ho il mio ruolo è il vampiro mi spieghi per quel motivo tu ho accoppato al posto di trasformarti perché ero impostore porca troia ma di quella puttana di una troia ma vaffanculo sono così triste sono così triste è stato terribile grazie mille Frasek per il settimo mese io ho visto te perché sono partito dopo che devo fare? mi sono perso qualcosa amici tutti finiti certo dove hai? eccolo sì 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 è stato così ma cocco sei speed lo posso dire di nuovo? vai cosa vuoi dire? lo dico? porco giro vai ah non lo dico no dillo Berro ha fatto fuori cecchino elettrico ah non lo so ho sbagliato posso dire solo una cosa mi discolpa? vai è vero non posso non è una discolpa questa cosa Berro come fosse una discolpa questa cosa? stavo veramente ancora guardando i comandi e le robe e quindi ho detto cosa faccio? lo uccido e tipo ho decapitato questa persona e poi in quella precisa ma eri sceriffo giusto? non potevo fare niente non potevo fare niente no 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 ragazzi c'è questa qua è andata in vacca dal primo secondo grazie piraccia grande va bene ti sta sceriffo grande sceriffo chi sarebbe lo sceriffo? è vero nessuno vota vero vota vero e basta vota Antonio vota vero io sto trollando e basta ma scusate ma l'imitatore ma che cazzo abbiamo votato? quello che deve prendere i cadaveri sì l'imitatore si è da morto l'imitatore prenderla l'imitatore cosa? che padre ed è finita la partita ragazzi 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 io vi do ma che devo fare se ne ha senso questo qua è stato chillato i primi dieci secondi neanche mi ero mosso al tavolo e poi avrei dovuto fare una partita 1v9 che sono il più scarso del mondo che cosa cazzo posso fare? ragazzi c'è detto ah fai la granata così blinda arrivo ma c'è un sintano cazzo gli lanciavo la granata eravamo check in 2 non si faceva niente ragazzi io vi do un tip nella vostra vita se voi credete a Nova preparatevi a delle grosse severe vinculate con la sabbia ero il vampiro amore c'è sa sì era il vampiro che ha ucciso me in 12 secondi sono visto in telecamere veramente ragazzi se voi trasterete Nova ancora arriveranno beh ora abbiamo trastato trastato bene scusa poi arriveranno oh è arrivato bene oh c'è un rivale c'è state? sì sì ci sono ci sono qual'era il problema? manca ciurlo perché ho dovuto installare la mod a mano perché non andava il mod manager ed era la mod sbagliata perché sul sito c'era quella sbagliata ah otto ok ho visto le camere spente vero inizialmente e l'ho parto all'ultimo io sono Mr. Beast ragazzi volevo solo dirvi questa cosa volevo solo dirvi questa cosa no io non credo che Mr. Beast sia in sede a rotelle ah giustatiamo è così il cattivario let's go let's go let's go adesso sono il crewmate e non morirò mai palese sono la spia mi piace spiare vi spio alle palle cazzo scusate questo era stato un po' maleducato da parte sono così triste sono veramente così triste cioè sono durato 10 secondi the bite of 87 porca puttana sono veramente veramente triste niente da dire ah santo dio salvare l'ossigeno mod qualcuno può bannare quello che spamma violentemente grazie mille no non potete perché siete occupati cazzo vabbè faccio io non vi preoccupate vedete è per questo che mi servono dei mod ecco niente esatto sì avete visto qualcosa avete visionato qualcosa ho cercato io ho trovato cadavre io di cui un attimo vai 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 dici tutto io sono ero a destra c'era una telecamera che mi ha visto sono sceso ho incrociato anche io poi c'erano due cadaveri a storage a storage storage barra admin c'era quello che ho riportato era sì erano entrambi vicini uno sulla porta di storage uno più sul corridoio di admin allora io ho una domanda da fare collegata alla cosa che ha appena detto cocco berro tu non stavi andando verso la botola vero perché non ci sono taschi in basso a destra di navicella ti do questo piccolo che cazzo dici non c'è nulla appena entri giri subito a destra l'unica cosa che c'è è la botola teso eh teso teso eh raga posso dirvi nevelocemente la telecamera comunque ho visto mai il culo uccidere in davanti a ma ragazzi la smettete di ammazzare davanti a telecamere ma ragazzi la smettete di ammazzare davanti a telecamere ma ragazzi la smettete di ammazzare davanti a telecamere io non dirò niente ma a dire qualcosa c'è chi c'è di te un'altra persona non dirò niente ero con la jesh solo che stiamo cioè io ho visto la jesh uscire da admin però non abbiamo visto chi cazzo era io non ho visto nulla purtroppo vabbè raga ma il culo ucciso comunque ma ero in medica io adesso qualcuno ha visto mike in medica no io ero tipo di sotto io sono passato da come stiva che c'era notta a fare la benzina cosa importante insieme a my culo vabbè che ha ucciso c'era c'è chi era jesco che sono passati lasciando il corpo per terra quindi non lo so aspetta 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 perché tu non lo so non vedi la fumogena è esatto sì con la femmina non le vedi per quello io stavo per riportare la fumogena e ha ucciso l'altra è counter devastante allora allora io ma allora mike tu hai fatto che tasca hai fatto io ero sono andato subito al reattore io ho fatto quella del reattore quella dei numeri no quella del memory scusate ma io mi sento di schippare regalo ho appena ok perfetto comunque è bello è costruito da sul muro probabilmente dopo vabbè vabbè i'm in a bad romance no rip mike ciao mike rip mike io ho già fatto l'artif4 va bene adesso andiamo a fare the bite of 87 di nuovo magari scanno totta così è ma è perché dai si scanniamo totta cazzo cazzo quanto voglio di scotennare totta fortissimo facciamo anche questa clu 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 facciamo anche questo clu 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 ok ora ce ne andiamo dado non mi uccidere devo raccattare totta e squagliarla senza un vero motivo non c'è nuova telecamera incredibile vediamo dov'è oh c'è già un cadavere cazzo sì quindi dicevo come mai avevo ucciso Michael che non ho capito ma daddy sei una fata sei una piccola fatina sono trilli ce ne ho fatto un non sei uscita dai fiabe allora io ho trovato il corpo di cecchi subito fuori da navigation dopo che ci ero entrato tipo un secondo prima cioè io sono entrato ho fatto la task sono uscito e c'era il cadavere di cecchi che era appena uscito da da navigation non mi ricordo purtroppo se con berro o rajesh allora io posso confermare che ciurli non abbia ucciso il cadavere e perché puoi confermare? perché ero a telecamere che cazzo di e quindi hai visto chi è stato? no perché sono appena arrivato è tempo di accendere le telecamere ho visto il corpicino blu di cecchi e daddi che è andato a toccarlo e chi c'era a destra? e chi c'era a destra? nova scusami tu eri con me si è entrato in navigation no non sono mai andato a ah era a destra si era a destra oddio non fossi no ma non ti ricordi chi c'era quando si è entrato in navigation io vado al volo a fare le quest ma cos'è? ma cos'è? ma cos'è? ma cos'è? ma io capito ma cos'è capito? dimmi ho capito ragazzi e che riusciamo sempre insieme però penso non è stato rage non è stato rage c'è chi è uscito con qualcuno da navigation un secondo prima che io c'entrassi ho fatto il task in tre secondi con berro? no 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 io sono lì in caffetteria ero tra caffetteria e storage allora era josh bella questa morte no c'è il doomsayer cosa cazzo succede? ari eccomi salve totta ti sei perso Rajesh che è morto a casa totta è nata ha ucciso Rajesh e è tornata è andata nel suo computer è andata nella scrivania di Rajesh guardate che io mi ho sentito io mi ho sentito mentre io andrò con le cuffie quindi Bertra sei un coglione ci siamo ragazzi ecco di Bertra sei un coglione è ripamico è passato è stata è stata un'esperienza skip it oh yeah skip it oh yeah io vorrei mordere qualcuno comunque sento un po' uno sfigato a non morde nessuno ma io sono qua che faccio le mie cose c'è totta c'è totta totta la squarta me ne vado di qua guardo le telecamere dico bello le telecamere troppa gente me ne vado ballo un po' per Dado pet 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 vuoi essere il mio amico Dado no she was a fairy il problema è che il vampiro cazzo non posso cioè ci sono le telecamere ma non posso fare un cazzo non posso fare un cazzo oh fix lights grazie finalmente fighe perché finché non fanno le cose io non posso fare veramente una serie hola allora io stavo facendo la task in elettrica e quando ho iniziato la task Berro era letteralmente a fianco a me e ora è morto ok beh ma non ho visto nulla allora io posso dire che c'era qualcuno in telecamere il che probabilmente vuol dire che c'era Nova in telecamere e Nova per tutto il game c'è stato Dado insieme a me per un bel po' ok allora niente però fino a io sono andato via da un po' in realtà io vorrei dire una cosa al volo contro Bertra cosa ti ho fatto scusami però io ero scudata eh e e poi non ero più scudata e l'unica che mi era passata a fianco in quel momento eri te io l'unica volta che ti sono passato di fianco non è che ti sei tolto lo scudo perché è morto la medica l'unica volta che ci siamo visti era di fianco a telecamere assolutamente le chiedi mi scusassi effettivamente mi può essere tolto lo scudo perché è morto il medico io da fare una domanda Daddy tu eri ancora il reattore io adesso sì stavo facendo il memory di merda allora è l'unica che non c'è tra un cazzo quindi potrebbe essere o Cocco o Bertra o Tota io ero completamente a destra se avete visto da no io ero in elettrica io ero in storaggio e stavo andando verso elettrica risolvere allora io ho visto Cocco uscire da elettrica e andare verso destra però ho capito un sacco di tempo fa sì cioè io ero a navigation ho fatto ho avuto il tempo di fare la task quella come cazzo si chiama quella in cui devi muoverla la navetta e il download cioè eh sì anche io ho fatto la task in elettrica e poi sono andato al reattore ho anche quasi finito il memory eh sì abbiamo fatto un sacco di temi quindi Bertra e Totta erano andato in tutto ciò il corpo dove era scusami ah io sono entrato in elettrica era buio ho riportato ok e se Totta diceva di essere stata in elettrica vuol dire che la kill no io ero in elettrica in questo momento proprio cioè ho visto Berro due secondi fa eh appunto e mentre sto facendo i cavi è partita la cosa ho l'ho ucciso lui o sta feicando sta feicando semplicemente io non posso dire che mi ha ucciso vero? no scusatemi chi era l'altra persona Dato se non io? mentre ci sono tu un bossone ho Bertra ho Coco e no io ero storia a questo punto Cocco perché ho due voti? perché ho due voti? ma che mi ha stai con noi stai con noi vieni con noi che merda che merda avevo avevo votato Bertra comunque ma chi cazzo che ha votato ma quindi Bertra eri tu che mi hai tolto lo scudo? no eri tu con quell'aria delicata io ho scuogliato Berro però davanti a te davanti a te tutti sono dimenticati di Nova ma non poteva succedermi a me una cosa del genere come di prima invece no dovevano segarmi l'altro cosa dovevo stare solo contro nove cioè se è successo io sono pazzesco chi è che lo sceriffo o no Berro non eri lì io io avevo letteralmente io avevo nel miniero letteralmente Bertra tozza e Cocco e non sapevo quale dei tre fosse quello safe quindi è considerata e faccio bene raga come funziona il vampirante devi trovare i vampiri devi cacciare i vampiri ma letti che fanno mazzati i vampiri devi dare contro il vampiro quindi se tu pensi che la persona sia il vampiro gli usi il paletto come se fosse una kill tra virgolette però se non è il vampiro non muore non succede nulla non succede nulla però se li finisci muori cazzo io stavo per dare un paletto a Cocco ma non ce lo fai come evitare io non so signori sono il veterano comunque raga Bertra Bertra Gaming è tornato non so che dirvi il Bertra del Gaming Samael stiamo giocando con mod varie abbiamo no la smoke che balla eh zio saranno troppe persone no e l'ho pure visto la persona l'ho ucciso ma io sono in corso perché l'hai fatto non ne ho detto chi è stato ma come l'avete fatto a vedere scusatemi non lo so non lo so non lo sta cazzando palese no no ma che vuol dire perché il killer che cazzo vuol dire perché l'ha ucciso è stato arrabbiatissimo 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 e allora votiamo arrabbiatissimo e allora votiamo arrabbiatissimo e allora votiamo arrabbiatissimo e allora votiamo sia 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 arrabbiatissimo In admin erano tutte ammassate Fermi un attimo Perché io sono stata Cioè mi è partita quella lì Che ti fa il fumo che non vedi nulla In O2 Ma ero in O2 io Io ero in O2 Non sapevo Io stavo facendo la task Io stavo facendo la task in O2 Ad un certo punto vedo tutto grigio E quindi se la kill è stata fatta in admin Sono confusa Io stavo facendo la carta E vi dirò di più La carta non si può più fare Nonostante tu sai perfettamente come trascinare la carta Non la puoi più fare Questo mi scagiona E scagiona anche Bertrand Scazzate Sono entrambi gli impostori Kill in admin E c'era la fumogena Scusate che l'ho votato un attimo Scusatemi Scusate fermi un attimo Non c'era la fumogena Io non la vedevo Io non la vedevo Io ero un weapon se non ho visto nessuna fumogena Io ero Ma devi stare nel cerchio Io sono entrato nel momento in cui Rage ha stampato Non c'ero La vuoi schippata Che devi fare Si schippa Cioè la call La call di nuova Perché c'è un voto controdato Perché questa cattiveria Perché check Perché check No io ho schippato Lo so che sei tu il merdoso Ma dai check Ah il geng Ti voterò dopo Aspetta che ti sgozzo Arrivo Nooo Oh Che cacciara Deva È totta È totta Dopo questa cosa è totta Palesemente totta Mandonna raga Ma voi da sentite la musica Ditemi se è giusta di volume O se devo metterla a posto Bla 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 Perché se è sturata La cambio Ovviamente Fatemi sapere Amuse Fatemi sapere Se vi piace Tutto giusto Grande Grande Viva l'edilizia Top number one Ah Madonna La mogo Quindi dopo Cosa vogliamo fare Di bello Secondo voi Facciamo una moghina Meglio il cazzo Ragazzi Non mi fate finire Le cazzo di task Allora Dov'era Chi l'ha ucciso L'ha ucciso davanti a me Fratello Bale Bro check Bro check Inutile Che me lo vedi Sì ma Se gli attacchi Le difese Sono queste qua Ma C'è un problema Io Ma dove era Tu spettati Dov'era questa cosa Davanti In admin Prima C'è lì Diciamo Al mega ingresso Ok C'è che cosa Successe Ero dentro Sotto Qualcuno Ha ucciso Ero dentro Sotto No no E poi stavo cercando di andare Verso la Botolina Però è stato sgamato In tempo La persona che è morta È effettivamente quella che avevi minacciato tu prima Chiedo Io non ho minacciato nessuno Adesso vengo e ti sgozzo E poi è morto qualcuno Non so se è lo stesso Ah era daddino No povero daddino Perché Ma c'è un piccolo problema C'è una cosa che non mi torna No Quello C'è una kill Ah ok Una kill quindi era il buono L'altra kill era il cattivo Eh? Io non so Io non so cosa Io non so giocare a questo gioco È chiara questa cosa Tramite il mio bellissimo potere Posso assicurarvi al 101% che è fratello Bail E niente qui qualcuno ha Volete sapere perché? Ma non ve lo dico se non mi sgozzano Ma perché? Ma chi è che è? Completamente Completamente Cazzuale Bel timing comunque Bellissimo timing Sai che non mi hanno sgozzato Bene Vabbè Io voto Bail perché Boh mi fido di c'è Ehi a caso Ma basta Cosa sta succedendo? Votate Bail Votate Bail Votate Bail E dopo questa mi voto Sì, un pezzo è merda Sì, um Grazie, Andy Sì, um, morte sette persone Non ho ancora capito un cazzo Sì, sì, è stato il Il coso più caotico della storia Oh, cazzo, non ho finito Potrebbe essere anche Nova, in realtà Che fa queste cose bizzarre Boh, io so che appena qualcuno mi si avvicina Troppo Mi metto l'Albert nel culo e decollo Ah, ci sono anche i cosi, è vero I vampiri Magari voglio fare la doppia Ho un po' paura, sarò onesto Io vivo col ditino qua Anche il fantasminchio Sono cagato addosso, ragazzi Ho fatto veramente la cacca addosso Vedendo Berro arrivare Ho fatto una caccona gigante Cazzo, sprecato il coso Adesso vado qui dentro Vedete, sono morto secco Non morire, non morire Cazzo il download Cazzo il download Muoio, muoio secco Madonna, 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 madonna La, 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 la Dai, 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 dai Ce la facciamo, ce la facciamo, ce la facciamo Let's go! Siamo vivi? Siamo vivi Devo fare mad Devo fare... No, 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 no Mi chiama Mike Mike? È ancora vivo Mike? Secondo me ci sono un botto di cadaveri in giro Perché non sta succedendo nulla Ma allora il double Dadoskis Mike Amara Mike che ricompare ogni tanto Dai Mike Uccidimi Vieni me a uccidere Mike Fuck Ponchieri, Dado, punchieri Rado, puncieri Non sto capendo un cazzo Ado, punchieri Dado è vicino a me e a Mike Raga Non me ne frega niente che per me è stato mai culo Anche secondo me Addio raga Non ho capito un cazzo come al solito il mio compagno è morto i primi 10 secondi Ma capita anche ai migliori Quando ci si grattugia la cappella A parte che la grattugia la cappella Ma a parte il fatto che è successa di nuovo la stessa identica cosa della portata prima Cioè ero impostore e il mio compagno è morto nei primi 5 secondi Ma poi ci sono state 5 o 6 persone che si sono eliminate a vicenda a caso Non succede quando la fumogena non funziona Ho visto questa gente che veniva sterminata Ma raga ma che range c'ha sta fumogena? Ma range? Ma l'hai buttata la fumogena? Perché chi la vedeva e chi no Sì L'ho tolta È baggata Un secondo che devo ringraziare un attimo per delle sapere Non ringraziare nessuno C'è qua un attimo la questione del vampire hunter Niente raghi Vedo che sto già andando in cacciara Ma questo mi piace Mi rende felice Uh domani devo allenarmi Voi vi allenate? Dai Facciamo una nostra piccola community della gente che si allena Voi andate in palestra Scrivetemi nella chat Vi allenate? Fate sport? Fate qualcosa? Voglio sapevolo Dai ditemelo Ditemelo e vi risponderò Intanto Dai su non fate la chat morta che non dice niente Sì con mia nonna Mood Dovevi portarla quando ho fatto il video Assolutamente nonna gang Dai dovete Dovete Scrivere in chat Fare le clip Faccio basket Pratico il nulla Mia nonna faceva la bodybuilder Buono Faccio solo cardio a letto Ah capisco Niente palestra Sistema roba nelle corsie Sì tutti i giorni E Bene Quando mi ricordo Tiro con l'arco Figata Pole dance con mia nonna Ragazzi ma tutti con le nonne Ma siete fortissimi Vabbè Poi ne parleremo meglio E non dirò altro Perché non voglio offendere nessuno Carotta Devi smetterla eh Che cazzo vuoi? Di dire le parole Le parole 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 Ok Allora facciamo fare Finta che adesso Se io sono l'impostore Non muoio nei primi Cioè non muore il compagno Nei primi 5 secondi Per favore Perro ma se tu non killi Non serve a niente Di sopravvivere Quindi Ho capito chiaro Ma se Cioè Boh Non lo so Se la fumogena si bugga Non è colpa mia Non c'è più la fumogena Tranquillo Lo so che non c'è più A dopo Allenamento intensivo Dov'è la tua sub intensiva? No sono un crewmate di merda Compito due fatture Grande hard Sono di nuovo la spia Comunque Ma voi prendete integratori Perché io sto cercando Indisperatamente di fare Una collab Tipo con Prozis Con le cose lì Se ce la faccio Raga Dovete comprare le cose da me Cioè col mio codice Vi prego Un ginocchio È tipo il mio sogno proibito Farcela Avere la sponsor Con una roba del genere Quindi se ce la faccio Voi dovete Ad ogni costo Darmi i vostri soldi Se fate già uso di cose Non perché sono un poraccio Ve lo giuro Cioè lo sono Ma è un altro discorso C'è chi? Subito Grande Jade Cazzo grande Anche tu Rachele F Che fai L'allenamento intensivo Anche Chi fa box Chi fa tutto Oh Che cazzo Eh Dado Ragazzi fermi tutti Fermi tutti Fermi tutti Sì 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 Fermi tutti Fermi tutti Fermi tutti Posso dire cosa ho visto? No Eh Daddi morto in Storage Sì soppure che abbiamo E sappiamo che l'aveva ucciso Io E io Ah Chi è stato A Teglio Un po' Dado Qualcuno si è travestito da Nova Per uccidere Eccolo Lo sai che il verde non è un colore che ti dona La madonna Un massacro Perché? Perché siete tutti così convinti? Perché si è trasformato in me E Soprattutto Ma ha beccato a sinistra Poi E Dado non parla Non dice nulla Neanche ci prova Senti sto scegliendo il ruolo per Nova Mi fai concentrare un attimo Sono spia comunque Sì sì Vabbè E Il famico mio è mossemane È appunto Da do da do Metti spia Fermi tutti C'è chi Tu che sei il cattivo con cui sto giocando Per favore Mi potresti consigliare Spia 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 Vado di spia Sì sì Eh vabbè Vado di spia No non andare Non era la spia Eeeh E adesso c'è chi C'è chi tu che adesso scherzi Ti voterò comunque Ok L'ho fatto Ho fatto un errore Cosa? Ma eh Niente 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 L'hai votato davvero L'ho votato davvero No No Non ci credo Non ci credo Ma vabbè Ma vabbè Non ti credo Scherzare Gli impostori Sono finiti Allora Come non prendi nulla Rachele A parte il prime Che non prendi Che non dai a me Che non prendi Dai a me Che ridere Povero c'è Esploso E così senza motivo Ma i tempi Ah ma i tempi Quando la gente Veniva esplosa Senza motivo A voi piaceva A me piaceva tantissimo Io mi ricordo Quando facevamo Esplodere le persone Opa la Metto la carta E la swipe Dovete farmi fare Le cazzo di tasche Vabbè raga Ho manco Sto fermo un po' All'upload Inelettrica Ma dovete giocare col pad Per favore Per favore Entra Non entra Non entra Non può entrare Mi avete sentito? No Era inelettrica Avete sentito qualcosa voi? In giant Io sento solo Ma andatemi tutti a fanculo Giocate voi Mi mudo Ok Votiamo tutta Selfreport Votta Selfreport Ma mi state votando seriamente Ragazzi Ma siete stupidi in culo? No vabbè Se voi Se voi Io la state votando Se adesso Mamma mia Io credo che comunque A prescindere Potrebbe chiamarsi karma Questa cosa Ridicoli 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 Ridicolus Ridicoli 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 Ma guarda Questi rincoglioniti Ha fatto troppo ridere Ha stato bellissimo Posso dire che è stato Veramente bellissimo Cazzo Ma han chiuso in storage Muoio Non mi accido Non mi accido Che palle Ma pensavo fosse per il meme Ma lo so Hai ragione Però sai Le top 3 Sbucione Chi cazzo è l'altro Aiuto C'è un cadavere C'è una persona morta Aiuto Ho fatto giusto Davvero Ho vinto Hai vinto Posso dire solo Bertra Godo Ma non sei morta No no Volevo solo dire Bertra Godo Questo è un messaggio Dall'oltretomba Capisco Capisco Aspetta un attimo Da quello che ha appena detto Ho capito che è nova Perché da quello che ho detto Non si poteva capire Quindi non è colpa Quindi si è capito Perro Che voleva dire Bertra Però va bene Raga ma quanti impostori ci sono Ho trovato il cadavere in storage E basta Era strappato a metà poverino Mi dispiace Non ho visto chi è entrato Non ho visto chi è uscito Non ho visto niente L'unica cosa che posso dire E che mi sono fatto le seghette a vicenda Grazie della clip Piraccia bellissima anche quella Grazie mille Amicizia incrociando i pipi E basta Nova dice che arriva da sinistra Io ero in elettrica Ho visto Nova arrivarmi da sotto Quindi non so se è arrivata da sinistra E ho trovato Non mi ricordo se sburba o attilio Era arancione In caffetteria Ho visto Nova tiparsi Quando avete chiamato Se hai trovato attilio Tipiamo perché Se hai trovato attilio Schifiamo perché è il vampiro Attilio è morto prima E allora ho trovato sburba So che era arancione Dato che li vedo Tipo adesso entrambi morti Mi sembra che fosse marrone Marrone ragazzi Ma è che chi l'ha visto? Capisco che la tonalità dell'arancione Può diventare marrone Ma Allora Allora era sburba per forza Ho visto sburba morto Quanti Ci potrebbe essere Un vampiro Un impostore O due impostori O impostore Nova si tipa Io sono lo swapper Sono lo swapper Sì mi sei swapper Lo swapper Tanto lui ho bail Garrett Bale No Lo swapper Swapper E adesso quanto viene swappato Secondo me? Mi sa un po' poco Si è swappato con la vita Guardate Ciao morti Dove siete? Tutti qui Tutti qui Cogliore di merda Chi è? Chi è l'altro? Chi è? L'ha presa bene comunque Cocco M'ha squaiato l'anima Madonna Avevo voluto squagliarti io l'anima Bertra Io voglio altri giorni come questo Cry about it Piangi a proposito Sono felice di essere morto con mio fratello Raga Qualcuno ha chiesto di essere boncato in chat E voi avete Le mot del bonk Quindi usatela Gentilmente Spammate il bonk Come è possibile? No Le sere Le coq Nere Esce di merda Il cazzo è rimasto Ma che Che cosa è il venerer Che cazzo è il venerer Il venerer con ogni kill si potenzia Si C'è su un problema Mancava Bastarda Il cazzo quindi Cioè sia il vampiro che il venerer È persa Proprio di brutto Io dai che pensavo di trasformarti Bertra comunque Non so Dai ci troviamo un altro Eh niente Allora c'è un altro Cocco e i vampiro Ai 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 Oh no Di sere Eh raga Ho trovato il cadaverino di Cocco Su Come si chiama? Lower Regine È l'unica persona Che ho visto passare Però Millenni prima È stato Rage Vabbè ma siamo Siamo tre È per forza Rage Rage Sei mutato Rage Non sapendo Non ti volevo ammattare Rage è il mio Berro non vinto gli impostori Hai il tuo plus Hai tu il vampiro Hai preso quell'altro Rage allora Io Allora non capisco come si gioca Tu sei talmente tanto forte Che ti lascio fare Scusate se non ero un impostore cos'era? Perché era felicissimo Mi sono sentita in colpissima Sono stati distrutti Ma chi hai gassato? Ma Dato è uscito da shapeshifter Tu cosa l'hai votato? Berro chi hai Chi hai gassato? Io ho impostorato Rajesh No Eh sì ma non era impostore Rage è un ruolo preciso Eh ripami fuori Ah ma scusa Non puoi essere tipo impostore e basta? No Quindi ho vinto Sì certo Ah sono un vampiro Che modo Voglio totta dai Facciamo la gang del boschios La gang del boschios selvaggios La gang del bucio La gang del buschio Ora siamo amici Ora siamo amici vampiri Che bello Sono contento Ora siamo amichetti Totta sa giocare Sì dai Cioè non è un vampiro della madonna Si può fare Che videve Ora siamo amici di vampiro Oh no Hanno preso la luce La luce Mettiamo a posto la luce Clicchi 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 clic 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 Allora Bella madonna Dunque innanzitutto Allora innanzitutto mi dispiace Nel senso che io sono entrato dentro Cos'è admin E ho fatto la task Quella la della cosa Ma non avevo notato Che per una frazione di secondo Si era illuminato il report Quindi io sono stato in presenza Di questo cadavere Per non lo so Dieci secondi Credo Che task Che task hai fatto in admin Quella la della upload download Sì è vero C'ero anch'io Solo che ero A guardare il corpo Perché non mi sa Comunque non sono Bastanza bravo da mentire Quindi avrei sbagliato Io dopo questa informazione Mi sento di scaggionare Daddy e Berro Comunque Entrambi Guys Nuova è morto ad admin C'è chi è morto a telecamere Lo stavo per riportare Oltretutto Nuova che è morto ad admin È morto davanti a me E l'ha ucciso Vale Cioè io Ovviamente non l'ho ucciso io Quindi non so La persona È il giochino Di personale Che l'abbia ucciso qualcuno Allora basta Basta fare un'esclusione Chi avete visto Negli ultimi dieci secondi Che insomma È rimasto sempre lo stesso Cioè io posso scaggionare Reggio da non essere morti Io ero Io ero con Bertrand Io posso scaggionare Rececchi perché è morto Vero Anche Nova Grazie Safe C'erano le luci spente Raga Cioè io ho provato anche A seguire A seguire l'impostore Ma non lo vedevo No io ero a destra Con Dado Sì ragazzi Cazzate Dado da solo Riesca a fare qualcosa Con l'impostore Però Dado che è ancora vivo Scusate C'è l'imudo veri Ero in navigation Sì confermo Non è vero Ma che ne sai Non vuoi confermare Non era lì Stai forciando un panino La nutella Allora si stavano spegnendo le luci Ed eravamo insieme a foglie Cioè non è che C'era Ma tu già Ed eravamo insieme a foggia Infatti gli hanno rubato la macchina Infatti gli hanno rubato la macchina Era insieme a foggia Ma è una storia vera Che ti hanno rubato la macchina a foggia A un mio amico sì Ma una quindicina E quindi scuola Che stavi votando tutti così felici A te Se non schippi Ho votato a te Totta Perché mai votato? Non lo so Mi stavi simpatica Mi legge Anche me voti perché te sto simpatica Ma vabbè Ma difatti è così che funzionano le lezioni No ma sta felice di questo sinceramente Amongas Potete spammare Amongas gentilmente Quando siamo impostori Perché Sono delle cose importanti comunque Noi stiamo giocando all'Amongas E ci terrai Per favore Il gaming oscuro seriale dopo l'action Con quattro gatti mi manca Visto? È bellissimo A me piace un sacco Il gaming in cui restiamo in due A me piaceva Era una cosa tenerella Molto intima Molto sensuala Ciao Berro Tu sei una folle Torca Fanculo Mi tocca uccidere anche lei Raga Amongas Ho visto Oddio Ho visto Il corpo verde Ero in Sono logata Ero a telecamere E ho visto un corpo verde In navigation Quindi Mike è morto in navigation C'è Nel territorio di navigation Mike è morto da Attilio in navigation A destra Ci ha dato Pure Raga Mike è morto da Attilio in navigation Beh L'ha ucciso Ha fatto un accordo Perché era vale di nuovo Ero io di nuovo Che mi ha ucciso Mike davanti Stavo impazzendo Ma c'è mania di protagonismo questa persona però Ma no No è schizofrenico Lasciola per Posso chiedere una cosa Posso chiedere una cosa Chiedi tutto quello che vuoi Non è possibile che ci siano due morfling No 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 Perché che hai visto O mi drogo Ho visto Attilio in basso a sinistra Sto andando verso delle camere Ho visto un uomo con un cappello No bro Ti do No sei un ottimo compagno assassino Lo ci hai provato Sì è vero Mi voto Mi sono autobotato Comunque sia So che sono rimasto da partita di prima Ma volevo dire questa cosa Dicci tutto Prima Mentre tipo io potevo ghezzare i ruoli C'era letteralmente il ruolo impostore Quindi io sono andato Eh sì Eh lo so però non c'è il ruolo impostore qua Sono sicuro di quello Invece devo essere Devo dire il preciso tipo di impostore Mi sono autobotato Perché non mi avete votato Sì così Esatto E invece bastava che stavo zitto e vincevamo E invece ho dovuto parlare Niente Esattamente Che bisogna fare che spiega Aspetta che mi buttate fuori Among Us Come dicono i giovani d'oggi Among Us Among Us Vabbè ma è abbastanza vinta in realtà Se facciamo una doppia è vinta Sì dovrei raccattare Totta E andare con lei però Eccoci qua Raccatto Totta E si lavora insieme No 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 Insieme Andiamo a fare una doppia 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 Nessuno lo può negare Nessuno lo può Negare Nessuno lo può Negare Vabbè nessuno lo può ahahah uc uc sento che sono ancora io dimmi che sono ancora io dico quando leggi chi avevi di fianco dimmi che avevi di fianco che è il bilbante che ti fatto male non lo so brodero io sono tutto lontano da tutti non lo so cosa è successo io non sono in elettrica chi avevi di fianco chi è che sta parlando nessuno e come cazzo stavo proprio dicendo che stavi sgravando e lo so vabbè non ti preoccupare ci proverò un'altra volta povero Dardo io schipperei ma? qualcuno qui è stato cattivo è sulla lista di pomodoro ma cosa fai nella vita tu? ma che cazzo il doomsayer? è un 1v1 bellissimo no non le ammazzo le persone non come hobby principale insomma però come side hustle schippo schippi perché hai sbagliato il ruolo cocco mi spiace no non sono un doomsayer purtroppo se no avrei vinto non sei lo stupido dice va bene non voterò nessuno schippo madonna questa è una delle cose più stupide che abbiamo mai visto 1v1 1v1 io faccio l'arbitro 1v1 in caffetteria se te ne vai dalla caffetteria cosa sta succedendo? cosa sta succedendo? where do I go? lui si è il circo è il circo io comincio ad essere in fastidio dove sta andando? ogni volta god decidi tu da chi perdere c'è decidi tu da chi perdere uno di due è il vampiro che è successo? però rage perché avete chiamato l'emergency? sai che io adesso posso guessare di nuovo vai 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 guess 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 sto cazzo devo stare veloce dov'è? nooo senti un bene ci piace la mia era una partita finita tu ma perché non ti fanno 6 km non è vero 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 io sono stato tutto il tempo a dire quando muore Dado? quando muore Dado? ah sì ma a parte che qualcuno ti ha coltellato potevi dirlo chi era? non l'ho visto io l'ho visto invece ho visto Bertra e Tot andare verso il posto a sinistra sì esatto io stavo andando per la doppia solo che poi ero tipo perché non mi fa uccidere Rajesh? infatti io ti stavo guardando e ero lì tipo boh che cazzo è successo? con lo stick do something do something io non c'ho parole fra tutti i ruoli buoni ho scelto il veterano allora io posso chiedere una cosa se siete vampiri non mi tocchiate almeno uccidetemi se volete non trasformatemi ti vengo a toccare le palle a me mi ha trasformato come lo stozzo di Bertra io stavo iniziando dicendo allora io sono la spia ecco come funziona la spia e poi faccio perché non mi ha trasformato io invece vorrei sapere io vorrei sapere quando è che Dado ha aperto l'OnlyFans perché ogni singola volta che crepo c'ho una processione di signorine che dice no povero Dado sono il vigilante sono il vigilante non so perché questa cosa è un po' un po' ma io ho cenato ah si che ho cenato ho fame porca trelle ho fatto la cacca a domani l'ho fatto solo per rompervi il cazzo va bene ok Dado ha dato cacciato va bene Dado ha dato cacciato votatemi grazie vostro Dado deve tornare a scoparsene tutte grazie Dado 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 non scopa è quello il problema ma forse per terra perché tu non vuoi è diverso sì esatto loro vogliono votato sì votato perché la drollata io non sto contentando non siete un clown io sto seguendo la cazzo di massa inutilmente l'associazione non siete l'associazione dei cazzi schippate schippate hanno già votato tutti che utilità è sta cosa il berro può schippare ragazzi no va bene ci avete veramente il cervello ci sono un po' di esseri non umani qui dentro eh no eh me ne rendo conto va bene ragazzi divertitemi non vi dico manco che ruolo ero su cazzo è andata subito in cacciare sono molto felice oddio too fast mi ha fatto molto ridere ho fatto il haha funny xd nella chat di berro piangono tutte per dato quando muore perché nessuno piange nella mia chat per me eh dove sono le mie le mie fan girl che piangono quando muoio che fanno no belt anche uomini cioè non è che sia schizionoso hai più influenza di un grande uomo no 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 non so di cosa stiamo parlando non so niente come che inizio live walk c'ho ripianto mi dispiace raga non ero intenzione aiaiaiaiaiaiaiaioio qual è successo muda mi hanno ucciso VT troia più strada una node più e più Romania al rischio grazie piraccia allora o attiglio ragazzo non lo so io mi ho incrociati due nuova che stavate andando ora jesse eravate il morfling eravate con la mia schiena impostore ma scusate aspettate perché bert era incazzato ripetete perché io nemmo io ero a fare come si chiama ho fatto il numerini in reactor sono uscito stavo andando su e mi è ho visto nella linea è morto quindi il morto era nel corridoio il corridoio e le telecamere ed era ho visto esplodere mentre camminavo sono tornato indietro stavo entrando è arrivata è arrivato bale che ha detto no è broma ti ho visto vabbè regalo non solo andare verso upper engine e perché dovrebbe essere attilio no era jesse ora dici perché ho il dubbio però forse più la jesse io stavo salendo da su e ho visto ok ok allora però no raga raga bertra non mi fido per niente da chi era a destra di voi c'era mike che l'ho visto e quindi non mai che hai visto ragione arrivare a destra non lo so io ero in elettrica con charlie quindi era abbastanza inutile rega a figlio io vi dico ragione 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 attilio però uno dei due però ditemi solo se mi state votando per buttarmi fuori o no bertra vota vota ragione c'è ottiglio ragione stavo non lo so prezzi dimmi qualcosa che ti devo dire se di me lo dico dopo ragazzi io ho voluto sgossato ho incrociato i due nuova e sono tornato indietro le palle avete votato a tiglio rega chi vota ma lo deve sapere tutti votare e non lo so che dei due ragazzi un occhio a bertra perché ha fatto una roba strabuttolente 3 te lo consiglio rega si chiama carico a tiglio mi fa molto ridere comunque che io non posso vedere le persone ma loro sia bellissimo madonna se vengo cacciato per una col sbagliatissima ma proprio sbagliata chi cazzo sei che palle l'avrei visto il coso l'avrei visto il coso ma mi hanno detto che puzzi beh è normale non mi lavo ragazzi è difficile sapere di buono quando non ti lavi adesso mi sta mi sta a quel lato dai c'è mi va benissimo così mi scagiona amo darti in attimo grazie bro ma smettila ti prego ma perché totta raga totta stava è andata verso upper engine non ho idea di dove sia morta però bro lo scanner si ho fatto lo scanner storto e ci sono potuto salire anche io hai fatto la task se mi ha fatto salire sullo scanner tu stavi tutto storto ma hai fatto la task o no questa è la domanda eh ci sono salito poi sono andato al bottone salire non vuol dire che hai fatto la task però no eh no però fra te c'eri tu sopra e mi ha fatto salire ma poi puoi andare gli ominicchi si compenetrano oddio bertra continua a dirmi queste cose totta vuoi essere il mio minicchio che compenetro quando vuoi scrivimi improve compenetra compenetra bro io so solo che ho fatto un sacco di cacca e sono andato a giocare il bottone mi ha fatto un sacco paura per questa cosa ti avrei potuto uccidere 15 volte io ce l'avevo quindi chi devo votare ragazzi questa volta voto totta no non posso raga io oggettivamente sono andato a fare tranquillissimo però scusate un attimo prima abbiamo fatto tipo quattro voti su uno tre su un altro due su un terzo adesso chissà chi votiamo boh c'è non si sa non mi sembra molto sensata sta cosa non me la sto cellando in sta partita credo c'è non ho ansia non ho nulla anche perché non è solo la col dello scan pensi andare dallo psicologo donna santa ragazzi vara qui che vuoi vara qui che vuoi vara chi diventa un attimino veneto il signor bertra per esprimere disappunto e poi scompare adesso è ciurli e mi scuoia mi decapita vero lo sono sono un mona sono ufficialmente un mona niente ho deciso di starmi assolutamente nelle ginocchia onesto onesto oh si devo quindi finire di spompinare questo coso no ma ho chiuso qui dentro sono molto triste per favore per favore voglio uscire voglio uscire ok ah ragazzoni miei hai quanto a dir qual'era e cosa dura questa selva selvaggia e aspre forte che nel pensiero rinnova la paura ma per parlare del ben che vi trovai vi narrerò delle altre cose che vo scorta tipo le palle oh ho spento le luci ma muoio e invece che è? among us? rido stavo per dire che berro è safe dove era berro? è morto in elettrica ok non è berro ma presto o tardi? cioè da poco da tanto no è perché sono morto di stagione ero storage sono arrivato e c'era il cadavere dieci secondi di tempo perché l'ho visto passare davanti a me circa dieci secondi io ero in telecamere e ho visto Attilio sburba e nova in admin eh si io ero in admin io arrivavo da destra quindi io Attilio ci siamo incrociati prima in verso armeria è stato Vale che era con me in elettrica poco fa si ma infatti io adesso ero te lo dico subito penso vicino al medico no in medico la prima mappa lo vedi eh si in medico a fare lo scanner che prima non ho fatto o potrebbe essere non lo so perché effettivamente è morto una decina di secondi fa per esclusione perché se ero in elettrico io l'ho visto il lower engine esatto dire le telecamere vale per forza no raga io ero in medico e vi ripeto che è morto una decina di secondi fa potrebbe essere anche Mike perché mi è passato l'ho incrociato in l'over engine perché io però potrebbe anche essere allora sburba è arrivato in admin dal basso e stava uscendo da security sono arrivato dall'alto in admin chi è arrivato per ultimo in admin io sono sbaglio si sburba è arrivato dall'alto io sono arrivato da su come il salvatore ma è sempre sburba ovale era Attilio che è arrivato dal basso è vero era Attilio che è arrivato dal basso no è arrivato da sopra perché io a Attilio ci siamo incrociati verso no raga io ho visto qualcuno arrivare dal basso sicuro eh allora forse ero io che stavo andando verso ma non verso erettrica forse era Mike che stava andando a riportare il fatto no qualcuno che è entrato qualcuno che è entrato in admin è arrivato dal basso ma è qua tu da dove sei arrivato io adesso sono io ho fatto armeria scudi comunicazione estiva e poi elettrica cioè ho fatto quel percorso là e c'era calavere hai saltato completamente mezzo eccetera vabbè ciao ma tu mi hai visto andare verso su però cioè io sono scaggionato così io non ti ho visto andare verso su no ma io cosa c'entro scusate ma io cosa c'entro scusate manco io in realtà sono tantissime le tasche Attilio mi sta appeso al culo se adesso mi uccide piango secondo me è way Mike ho Attilio a sto point cioè è un po' è daddy skill estrema eh ma ma che cazzo ma davanti a davanti a Attilio l'ha fatto ah yes ma raga come è possibile che ho vinto oddio perché ha desincato il server solo per questo oddio ha capito letteralmente cos'è che è successo? comunque la geshe io me la segno che vengo verso il te che tu fermo ho messo la paletta oh mio dio che anzi cioè io non voglio fare il cattivo io io lo dico che beh c'è io ti sparo in testa io invece vi dico che vi odio tutti ma il mio è bellissimo me lo voglio sempre fare mi state tutti sul cazzo basta anche io vieni con me non sto guardando io ero il vigilante non stavo giocando bro letteralmente che quando con la kill di cocco ho visto solo i tuoi piedi vicino a quelli di cocco è il vampiro wow è il vampiro wow è il vampiro raga scusate ma vabbè sei più lo sceriffo mi avete cagato il cazzo ma me la posso fare una porca di partita nooo forse da questo ho capito che non era lo sceriffo forse forse e quindi era lì in mezzo e mi sono avvicinato eravamo lì ho finito di fare lo swipe e ho visto il reportino gigante ho detto boh che bello io adesso però ho un problema di memoria scusate ma potete dire al pubblico tipo me cosa è successo praticamente c'è chi è arrivato e noi stavamo facendo la tessera dopo lo swipe e per te ha fatto boop subito verde è girato e ha fatto oh mio dio c'è presciutto che ci fa qua c'è la sbuccia la più bella del mondo oh mio dio c'è presciutto no è vero la sbucciona non c'è più mmm eh non c'è più la sbucciona niente sbucciona vabbè dopo mi lavo la maschera e sono io l'altra sbucciona grande amo quella scena di spiderman chi è che c'era lì nel coso? c'ero io in admin in admin c'ero pure io io ho due volte però io ero dalla parte del io stavo a fianco io voglio fare una domanda più importante io stavo a fianco a tot sì ti amo uno delle tante persone lì in mezzo per caso ero un veterano eh infatti anche a me è venuto sto dubbio o quello perché se qualcuno ha attivato quell'abilità è anche quelle anche il papai rante in quel caso c'è chi era il vampiro allora secondo me valida valido io punto per il vampiro perché sai inizio game provi a vampirare qualcuno a me prima va bene va bene impostore va bene veterano va bene va bene veterano easy berto veterano ok si si con lo studio di veterano con lo studio di veterano addio per sempre basta vabbè che bastardi che bastardi che siete grazie 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 comunque che c'è qualcuno che mi difende grazie che merda che melodine ah va bene adesso facciamo il bite of 27 si comunque non ho idea di di come io abbia abbia sculato sta cosa perché raga beccare l'impostore in tutto quel gruppo veramente veramente la caccona addosso mi sono fatto no vai af che dietro un palo vi giuro mi sono cagato addosso ho fatto una merdona che voi non avete idea che ho deciso di trovare dato e sparargli in bocca da sceriffo ma vabbè sei sicuro che ho deciso di trovare dato e sparargli in bocca da sceriffo ma vabbè sei lo sceriffo sono molto sicuro di essere lo sceriffo e volevo suicidarmi con stile a quanto pare lo sceriffo io ti posso dire che secondo me sta cazzando in un modo secondo me è una grossa cazzata secondo me non sospettava l'uomo nascosto dietro a un altro lo sceriffo dici è caduto nella trappola la cazzata la trappola del cocco si anche per gattiglia lo sceriffo quindi la macchina del cocco ha un buco nella gomma dai giorni pari invece sono benzinaio è un altro buono maledizione era davvero lo sceriffo era davvero lo sceriffo vabbè è like è like è stato un piacere comunque bertra usa i cheat è sempre lui l'impostore ma ve ro no bertra non usa i cheat di più dai bertra ho swappato con berno dai ti prego se mi hai swappato io fino a domani nooo no mi piace avrebbe fatto ridere eri un amico mio e ora si mangia tu mi hai fatto la persona più pericolosa del mondo ciao cadaverini allora io credo nooo bertra credo che no ragazzi sapete che vi ho vinto io la partita è perché ho ucciso entrambi gli impostori sono loro dai l'impostore sai com'è Dado è veramente difficile da ghezzare come impostore se non uccide non fai niente cazzo della solita di merda è molto difficile da ghezzare io Dado mi sono pure messo via scudo ma donna bertra ti ho swappato Dado ed eri l'impostore non ti avrei mai ucciso in telecamere dopo lo swap io ragazzi ero neutrale e dovevo ghezzare i ruoli degli altri la prima volta è morto qualcuno prima che io potessi cliccare anche solamente una volta observe e la seconda volta c'era il cooldown di un minuto non ho potuto fare un cazzo per tutta la partita niente però qui in quei 10 secondi ti devi sbrigare io devo dire semplicemente che Bertra è un pezzo di merda no ma io sono sfigato io sono sfigato io vorrei che Dado guardasse la live e appena ho visto che era impostore insieme a Dado ho detto ragazzi sono felicissimo c'è chi sai che cosa fa Bertra in questo momento streamer simsniper è un pezzo di merda 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 sono l'investigatore che ridere sto game raga è stata la cosa più divertente del mondo ah Gesù mi ha fatto veramente tanto ridere Attilio? Attilio cosa mi vuoi raccontare? no ma mi si è sparato addosso io sto sperando io vi giuro allora allora io sono andato io sono andato no dentro la cosa principale silenzio faccio la prima cazzo di quest e faccio il download mentre sto facendo download dico adesso ragazzi ve lo giuro mancherà un decimo di secondo prima che finisco sta cosa e qualcuno premerà che è morto qualcuno io vi giuro che non ce la faccio più non ci credo non ci credo sei l'impostore sei l'impostore sei l'impostore sei l'impostore no sai perché sei l'impostore sai perché sei l'impostore io sono l'impostore sì sai perché perché sei l'impostore perché dici che manca un decimo di secondo eccetera il tempo che dici sta frase è già finito il download ma infatti ahia mentre lo sto facendo allora ragazzi sì 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 certo dicono tutti così eh ma secondo te Tota io cioè vabbè mi prego votatemi così io faccio delle tasche da fantasma almeno non mi cazzo berro ti sto prendendo per i fondelli sono morto Nova brutti coglioni possiamo lasciar parlare Bertra mannaggia la madossa grazie allora io stavo facendo gli asteroidini e sono un multitasker quindi vedevo vedo proprio trasparente e c'era Attilio c'era Nova Nova è esploso fine ha fatto lo stab Bertra non ho visto lo stab perché stavo guardando gli asteroidi scusami Bertra scusa domanda un attimo quindi tu stai facendo gli asteroidi sì ha detto così va bene perfetto sì sì mi dopo fortissimo e quindi boh secondo me schippabile tenete d'occhio ti primi? ti primi? ho votato l'impostore no vissi un secondo ok potevano essere 20.000 cose ho votato l'impostore io ho le percentuali mi tradiscono ogni volta eh quindi io sono l'impostore ragazzi no ma mi si è sparato ma chi siete? Regi credi quali sono le impostazioni di moderazione? cosa sono? cosa intendi Capleo? le regole? sono quelle le regole che non devi dire parolacce bestemmie insultare la gente basta fine delle cose che non devi fare no 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 ah ho scritto magari lo facciamo c'è chi mmm mmm che c'è un marrone mmm oh ma brutti coglioni c'è c'è dell'accanimento su di me questa sera comunque ok nooo è morto dato sono safe non è in rage non trovavo allora ragazzi ci è successo una cosa molto strana sono entrato in security con Vale e sono andato ho visto il corpo sono andato subito a riportarlo tanto Vale invece ci faceva un giretto in security ma non ho visto uno ma ci sembra un ucchio ma ci sembra un ucchio però sono entrato con lui allora ho tre cose da dire ho tre cose da dire non ho visto il corpo perché probabilmente ha una malattia agli occhi non lo so quindi non ho visto chi c'era dentro e terza cosa ho già detto di essere l'impostore non ho capito l'ultima parte no no niente sono l'investigatore l'impostigatore l'investigatore l'investigatore vicino l'investipostore hanno usato un sacco di piedi è proprio una passione che schifo Gesù Cristo comportamento da bastardo attiglio l'impostore attiglio l'impostore c'è il cappello verde c'è il cappello verde ma che dove mi avete visto che io sono stato a destra a destra dove c'era una cadavere in admin hanno chiamato ossigeno sono andati in ossigeno oddio meno male mi fa piacere aver chiamato che sono il medico dal primo round mi fa piacere che mi svappate comunque cocco se tu sei il medico io sono sissi vedi vedi si è decisamente l'impostore decisamente l'impostore proprio ma di brutto madonna quanto è l'impostore madonna ma troppo l'impostore ma di brutto ma veramente un uno sfacelo di impostoraggine ma ho visto raramente cose così impostore ci sono delle parole bannabili cappleo non so cosa tu stia cercando di dire ma alcune cose non puoi dirlo molto banalmente secondo me di qua troverò un cadavere a breve secondo me eh però potrei sbagliarmi dov'era il cazzo ma che cazzo ok c'era un corpo in navigation ma a quanto pare non è importante perché c'è pieno un corpo in navigation penso forse vale perché era nero il corpo brutto mi sentire dove sei io sono in storage in questo momento vero chi hai votato? vabbè bro anche meno cioè non serve che dici la mia ragazza così per distinguermi cosa? ah io ho votato Rajesh oppure Cocco oppure Dadio oppure Sburbra uno di questi quattro ho votato perché a Sirio ho quittato? perché è cracciato no che sfiga perché è incazzato se devo essere sincero Berro se per me stai cazzando vuoi tirarla in cacciara va bene ma cosa vuol dire c'è che sono un impostore tipo? sei qualcuno di di cattivo qualcosa no non è vero ma se vuoi votarmi ti capisco cioè questa partita ormai è un po' andata in bacca l'ultima volta che ci siamo visti sono morte quattro persone quindi posso capire che tu sia sospettoso un po' di chiunque no io sto cercando di fare le quest senza scappottare ma ma cioè le faccio anche da male almeno le faccio in pace le vuoi finire le quest? allora ammazziamo io voglio dirvi una cosa secondo me Bale in tutto ciò era troppo un impostore un vampiro ma sei morto come ha fatto? beh puoi morire comunque ma ti giuro che prima quando hanno chiamato il e tu come lo sai Vertra? sei l'impostore? no perché prima ha detto ha fatto una call bizzarra ha fatto una call bizzarra sul suo ruolo e poi quando hanno chiamato il reattore quando hanno chiamato il reattore era fermo al memory che non è andato a risolvere ho detto ok ok vi dico questo poi appena si è appena stava risolvendo si è mosso e poi subito dopo è tornato a rifarlo io vorrei sottolineare il fatto che Vertra ha subito detto che era un vampiro perché lui è l'impostore sa che non può essere è un impostore o un vampiro si ma hai enfatizzato vampiro se non è Zuppo è poi ambagnato però è valesemente Sperl siete veramente sciocchi posso dire no sono l'impostore quindi volevo eh sì ha senso ha senso devo dire onesto e poi si chiede perché viene swappato ero io lo swapper ti pare che Cocco sbaglia per una volta a dire il ruolo impossibile io sono effettivamente il medico prima sono tornato che cazzo sta succedendo con questo game eh vabbè godo ma a me faceva ridere perché io vedo ancora lo scudo io vedo ancora lo scudo ce l'hai ancora eh ma mi fa ridere perché io ho detto vabbè Cocco si è dichiarato medico no no la mia generata era Cocco si è dichiarato medico lo trasformo in vampiro faccio gassare l'impostore e il medico e lui muore no niente ma non è possibile mettere lo scudo sempre a un impostore ma tu eri medico ero medico ma io ti ho gassato medico da doomsayer ma io com'è che sono l'unico stronzo che fa le tasche ragazzi lo ho salvato io Cocco vabbè ma mi spiegate perché sono tra l'altro l'unico stronzo che fa ancora le tasche cioè nel senso ho dato che sono un modo non puoi fare più quello è bello se ho scelto di vita ho chiuso un vampiro ma la vera si mi ha chiuso mi sembra maledetti io ti ho buttato fuori perché ero l'impostore e volevo che buttassero fuori l'innocente comunque i vampiri sono troppo caotici posso dirlo cioè si capisce in cazzo ma è perfetto perché Cocco si è preso il ruolo di medico stava a posto io invece vorrei dire una cosa potresti non morire istantaneamente se si può stai vicino sono il veterano e mi devo difendere dai cattivi cattivoni miau miau i cattivi oh foglie di merda parcaccio 2 che cazzo se adesso balle mi uccidi mi sparo nel buco del culo mi sparo il buco io ti giuro cosa è successo scusate tu odi la tua vita tantissima quindi stiamo votando Dado? mi confermate? allora allora però niente vi stoppia per culo per la seconda madonna quanto decolli coglione poca voglia di vivere perchè Dado devi fare questa cosa? cioè qual è la motivazione? ma cosa è successo? ragazzi c'è il doom 6 mi fa molto ridere Dado fa molto ridere è la partita migliore di tutte che è successo? non ho capito io avevo capito guardia ti voto solo perchè non so cosa fare nella mia vita ti chiedo scusa ma che è allora io voto c'è chi o cocco eccoci qua a me piace come hai ragione mi sembra perchè no vi spiego perchè perchè mi sembra una giocata come hanno reagito Dado e Rajesh mi sembra già la persona che sanno giocare quindi c'è chi o cocco ma mi sembra che io stia giocando? io mi ho ascoltato ho giocato ho giocato di più mentre ero morto e parlavate di me di che io che gioco tu pensi che io stia a giocare vuoi votarmi? mi voto pure io ora voto cocco ora voto cocco va bene ero indecita tra voi due tu mi hai fatto senti in colpa voto cocco ci sta ci sta signora totta metagaming nooo un disastro un disastro ma Charlie io non ho capito madonna che cazzo è successo che cazzo è successo io volevo essere il veterano tranquillo invece niente è andato tutto in merda tutto in merda tesovi è andato in cazzara Bertha per tempo mi devi lasciare la quesita per 12 anni no dai effettivamente è stato preso quindi farò l'ordine magari domattina e così arriveranno tra un mesetto e facciamo il video nel chillonji ragazzi il chillonji faremo il grande unboxing del tema comunque spero che reaction vi piaccia tanto perché reaction avrà veramente tanti video prossimamente e anche un po' diversi come questi qua quindi roba un po' di acquisti roba di reaction un po' come fosse il vecchio primo canale solo che adesso sul primo canale ci sono questi bellissimi video un po' più elaboratori che spero vi piacciono perché mi ci sto impegnando abbastanza cazzo mi sto impegnando di brutto altro che abbastanza non c'è cazzo totta totta vuoi dire qualcosa totta nooo cosa? totta vuoi dire qualcosa entro in telecamere e vedo un uomo morto totta e che c'entro io? non so l'hai appena ammazzato io ero in storage in questo momento sì ma Iculo chi è? io ero in storage in basso sotto alla tanica Mike che ah ecco perché t'ho visto tipo in come si chiama in caffetteria che non stai facendo letteralmente un cazzo sarà una fine tattica di gioco che ancora non capisco io ve lo dico raga grande cavolata io ero ho visto posso fermare la tiro di cocco totta era a telecamere ahia sì ero prima a telecamere ma ammazzato un botto di tempo fa a telecamere no no sì 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 un botto di tempo fa ero a telecamere no sono in visita a inizio game sono andata verso telecamere chi è che era il cazzo fai quel cazzo che ti pare uno o due Bertra due ah spavento e questo è quello che allora vado a capire no fermi tutti fermi tutti fermi tutti rage spiega quello che è successo perché non spiego io perché no no aspetta aspetta allora io mozzico cocco non succede niente io sono medico non succede niente mozzico dado e dado è medico e diventa vampiro dado vai a te il pezzo allora aspetta la spiego perché dal mio dal mio pov fa ancora più ridere allora io da medico scudo cocco ok e letteralmente e letteralmente cosa succede che mi si illumina di verde la situazione e quindi dico cazzo rage è cattivo appena io chiamo il pulsante divento vampiro e quindi non posso farvi la call perché sennò mi ammazzo e quindi che cosa ho detto no ragazzi tutto questo aspetta vi ho preso per il culo di nuovo perché non potevo fare nessuna call in tutto questo sono morto io ho preso il sample di rage che tra tutti i ruoli che non esisteva non c'era solo il vampiro no vabbè quindi ho detto dado non dice un cazzo cioè capito capito com'è la situazione vabbè che infamato e totta invece sempre con l'observe no 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 era un 50 e 50 aspetta cazzo di cane l'ho vista veramente ammazzare anzi probabilmente l'hai redato tu il 50 e 50 perché ti ha chiesto uno o due il primo era il hotling il secondo era il venere ma io nel senso io non capisco cioè dove ti esce la scritta poi nella chat nella chat quella piccola ma quando sei in nelle call nel meeting manca una persona sì io ma ragazzi io non so se vale la pena di continuare a giocare di nuovo ho perso senza sapere perché non mi sono morto mi hanno sgamato in quanto morti ma no chi ti ha sgamato non lo so ma sono morto a caso ma che ti sa dire non è vero stogliamo i vampiri e mettiamo qualcosa di frizzante vabbè sono il vampirantre oh mio dio sono proprio io il vampirantre oh my god vampirantre cosa io vi odio cosa Mike cosa mi rispondo io a chiudo ciao ha visto una roba illuminata chiamata bottomberry e la clicca no 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 non me ne frega un cazzo finzo sono stato buttato sette volte così non me ne frega un cazzo per raccogliere lo buttate fuori lo voglio morto lo voglio morto lo buttato hai ragione è stato chiamato bottomberry dovete votare Dado forza hai ragione ho votato Mike lo buttato niente è che non ho mai fatto sto ruolo c'era un tasto che lo conosce non c'è un ruolo non è neanche un ruolo non è neanche un ruolo ah raga i bassi d'entra c'era un po' oh dato è uscito per questo eh raga ma sentitelo è la regola questa è democrazia ragazzi la regola dovremmo votare Dado comunque no 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 perché due voti per il pulsante questo amore attiglio e si devi veramente sagrati del fatto che non posso ucciderti perché sennò madonna perché Dado continua ad avere due voti scusa proprio a screzzo adesso ammazzerò no bravo ma Cap Leo a me piace cioè voglio fare quei video lì adesso le ignorantate magari sul secondo canale ma non è quelle che mi vanno però voglio che supportiate anche il primo canale perché mi ci impegno tanto no sarebbe bello ritornare almeno a fare un centinaio di k views a video sul primo perché sì me lo merito me lo merito no se vi piacciono i video me lo meriterei però io ci tengo ma sì intanto c'è Bertra Reachon best canale al pescare comics ti ho chiesto quella cosa sul doppiaggio sono dimenticato di chiedere un'altra cosetta perché vai a scuola di doppiaggio perché mi ispira però in realtà al momento sono in pausa col doppiaggio perché mi occupava un po' tempo e soldi che al momento non ho dopo tutti a vedere il nuovo video assolutamente assolutamente among us l'hai visto anche tu il raggio di sole che ci arrivava a post era in comunicazione della capoccia lucidosa era in comunicazione è stato io dov'era? no scusami non scusate ho detto una cazzata in telecamere raga ah ok no perché ho sfattonato ho sfattonato no scusate ho sfattonato va bene è stato io ammazzarlo io ho visto te è nova in telecamere io so che io so che Garrett Bale era in storage secondo me ragazzi è stato veramente costo ma solo perché ero agito cosa ho detto prima passavano ammazzo nova boom ho ammazzato nova mi hai fatto hai fatto benissimo ma io te la faccio se sei cattivo io ti lascio perdere io tra sto cocco ho fatto bene perfetto si schifo scusate in che senso tra sto cocco che significa eh l'ho ammazzato io o no l'ha detto che ammazzava è vero vabbè allora sì l'ha detto l'ho ammazzato non mi sembra abbastanza onesto eh sì no bisogna premiare sempre l'onestà non è stato vero bisogna sempre premiare chi ammazza nova come siccome l'ha detto sì anche totta e nova erano in telecamere da soli da una vita l'ho ammazzato io è stato zitto tocco ma smettila mattiglio ma non è bello ma l'ho ammazzato io ma perché ne sai che eri storage con me è stato stato perché arriviamo da tenere ma che cazzo non litigate bambini non sto capendo un cazzo di sto game non si capisce nulla io sono il vampire hunter non so chi possa essere il vampire tantomeno l'hunter cioè al momento non ho piani vediamo poi in un futuro ma in un futuro vedremo io vorrei che un vampire venisse a ciucciarmi le palle che è un po' un advance così bizzarro c'è chi non è bambino hoi la non ho capito il mio ruolo ma perché l'hai ucciso Totta ha provato a farmi qualcosa adesso ti ha toccato mostrami sulla bambola dove io ve l'avevo detto che Totta era stato ammazzato secondo me l'ha ucciso Cocco adesso io dico ovviamente dirò una cosa tutta voce buttate fuori Attil oh mio dio buttate fuori Cocco Totta era sceriffo ma cosa dici ti tiro un pugno no no Bruno torta 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 non mi ispira per niente erano sceriffo io penso che sia affascinante invece come vero come ero fosse lo sceriffo ragazzi Totta era cattiva buttate fuori Cocco 50-50 buttiamo fuori entrambi dai ma cosa ho fatto io prima non ho ammazzato nessuno stavo scherzando tutti fuori tutti fuori stai scherzando dopo che Totta ha provato a ammazzare io ho visto Totta ammazzarlo davanti a me quindi ho detto boh è lo sceriffo e ragazzi votrò salta la cazzata è stata a fare la cazzata votatemi io sto sto divertendo io sto scoraggiando ah ma scoraggiare c'è chi si diventa per cantare a vivo è morta schippate è finito di mangiare vedete quanto è sus Totta con quella pistolina in mano raga lasciate sto più che altro anche la ster non c'è no no il gesture non c'è ma io prima stavo scherzando perché ho detto boh Totta è lo sceriffo quindi prendo le colpe e magari mi sbombolano adesso ti dice che Totta era l'impostore metto le mani avanti Totta può farmi cosa io ma non lo so cos'è però a questo punto raga ho provato a tocchia può essere pure può essere pure che tu hai attivato e lei era lo sceriff e ti ha sparato no 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 o magari o magari come è molto più probabile Totta magari faceva qualcosa di buono e a figlia era il veterano vi faccio una call no Rage vai fammi la call vi faccio una call adesso morirà Berro ma giuro devo mettere mano mia grazie capisco che bello non aspettavo altro adesso vedrò tipo 5 persone che come le mosche intorno alla merda ma solo perché il mio ruolo è medium a mettermi le dita nel culo guarda eh è medium è medium però è medium ma daddi dove è finito io no raga eyebreaker eyebreaker chi è breaker ma si è le persone no raga no raga no raga no raga no raga no grazie mille Bria per il 28esimo mese ciao sei un bellissimo miau miau Bria fai miau per noi miau la per me comunque raga dai mancano solo 6 sabine per arrivare a a 200 così a me farebbe molto piacere se arrivassimo a 200 sabine ve lo dico ci terrei mi piacerebbe un sacco è morto il vero sceriffo ragazzi io ho appena visto una botola persi in basso a sinina tu da dove sei uscito vero io so che ha botolato a esclusione ho fatto i conti eh cecchia vuoi vuoi condividere questa noleggi con noi ciao zucumo dov'è l'apparizione del prime di zucumo tusco bravo voi dite le vostre cose io sono no 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 e c'è chi adottiamo questo è quello che volevo dire no stavo anche io vediamo la botola si da dentro la botola bravo ti ho infilato dentro ah quindi vuoi dire che tu eri dentro la botola per vedere che no io ero nell'angolo a destra mentre c'è intorno al tavolo viste una botola persi c'è chi tu l'hai fatto tu l'hai fatto a inizio partita mi ha fatto molto ridere come cosa in che senso l'ho fatto inizio partita a inizio partita si è aperta la botola a destra di caffetteria e io ho escluso ho letto tutti i nomi di quelli che erano ancora fermi ma adesso pure mentre ero in Ago stavo girando in tondo Dado è uscito c'è chi era ancora dentro visto una botola persi quindi oh ha avuto una sfiga troce quindi chi stiamo votando? mi piace che ci sia questo momento miau miau prr in chat potete spammare tutti miau miau prr ah tra parentesi ho fatto un'emoto nuova di quelle che si muovono guardate che bella c'è il meme del coso che balla cazzo non va dove dovrebbe andare vaffanculo dovrebbe credo si funziona funziona godo fatelo è molto bella oddio mi sono mutato 10 secondi perchè state cacciando cecchi perchè a botolato ma io non ci so giocare ok devo dire che è molto piccola magari dopo la rifaccio ma allora c'è il jester ma da quando c'è il jester adesso a sorpresa a sorpresa no 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 adesso lo dico adesso lo dico no va tu dovresti prendere un sacco di malattie grazie no ma che mi hai fatto giocare grazie perché letteralmente sono morto da forza se si sa io se si sa che c'è il jester si gioca in un altro modo si pensa in un'altra maniera no amo ma io se io vedo una persona a botolare come no no io volevo renderti vampiro con me io ero impostore ma io stavo pulendo le foto le cocco tu non mi ascolti mi fate poi un attimo non c'è più il gumslayer c'è il jester comunque grazie grazie ragazzi sono passate comunque due ore di amogu ragazzi aspettate prima di andarmene ok io volevo chiedere soprattutto a Totta e a Bertra che continuano a invitarmi a questi giochi nonostante io non ci sa più giocare l'ultima settimana ascoltami l'ultimo fine settimana sono andato da mia sorella tipo a fare una seratina proprio tra amici e abbiamo giocato a Cluedo e abbiamo giocato a Cluedo e sono sistematicamente arrivato sempre l'ultimo quindi credo che siamo proprio gli investigativi che non capisco un cazzo cioè mi manca una parte del cervello che mi impedisce di capire come funzionano le cose ma è perché sei vecchio è la vecchiaia è la vecchiaia no 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 io ti giuro cioè so farti gli FPS ma non è vero guarda che secondo me non so capire non sono abbastanza sospettoso ma non so come funzionano ma è solo questione di allenamento per questo diciamo di mettere io sono a livello 20 ormai su questo cazzo di gioco e non è la prima volta che io gioco a questa roba ma io non sono in grado di giocare ad Among Us però devi stare tranquillo devi stare tranquillo io non ce la posso fare cioè bisogna tipo prendere atto dei propri limiti io non so giocare ad Among Us ma ogni tanto mi vedi? ma mi vedi? ma mi vedi che non so neanche come ci si muove ma è indifferente cazzo ma tipo in una partita da impostore cazzo uccido una persona e immediatamente arriva uno col distintivo sullo scudo della SWAT che mi arresta la volta dopo sono un impostore mi faccio i cazzi ma io ho sei persone che succedono a vicenda non so cosa sta succedendo il mondo si è volto troppo rapidamente intorno a me non ce la posso fare Vicky lo scusa per stare qua qua io ci tempo mi diverto perché siete simpaticissimi ma non so giocare non mi riesco a fare almeno questo comunque impazzisco però tranquillo Berro tanto continueranno a chiamarti solo per fare numero esatto grazie ora mi sento molto meglio no l'ho detto nel momento Berro nel momento in cui tu ci dirai che questo gioco ti fa cagare noi ti inviteremo ancora più fuori aumenteremo gli Among Us a settimana a 5 esattamente aumenteremo tutti i canali verticali di Among Us va bene ragazzi a giocare a Power Wash Simulator dove l'unico colpevole è lo sporco ciao 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 persone belle ciao 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 giovani è stato un piacere buona serata buona serata buona serata a tutti cari divertite buona cacata a tutti amici ciao 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 oh Bert Radurres in live io si ci l'ho ancora un po' qui coglione cazzo vuoi eh ma è andata via così va bene